Le voglio chiedere un'opinione invece sulle sardine, perché da settimane vediamo intanto tantissimi giovani che sono tornati in piazza e hanno preso un po' la piazza e i sovranisti di Salvini, della Meloni, quindi non sono più solo loro. Che idea si è fatto di queste sardine? Che fanno benissimo a scendere in piazza, fanno benissimo a farsi vedere e soprattutto si rovescia un concetto che io per molti anni non ho mai capito. Io spesso non ho votato e mi hanno sempre detto che non è corretto non votare, non si fa. Invece io sostenevo che se non c'era nulla che per me era interessante fare non avrei votato. Venivano considerati quelli che non votavano non come un partito di riferimento perché lo era quasi ma venivano considerati come gente che non esercitava le proprie funzioni. Questa gente qui sta dicendo io ci sono, esisto, mi voglio far vedere e voglio decidere con la mia testa. Se lo fanno e lo fanno bene è un'ottima cosa. Senta, dottor Della...